Vuoi fare e riprodurre il tuo beagle? Ti invitiamo a seguire i nostri consigli di prevenzione prima di produrre una cucciolata. La Musladin-Lueckesindroma, anche chiamata MLLS, è una malattia ereditaria che colpisce lo sviluppo del beagle. I cani affetti conoscono un disturbo della crescita, una deformazione degli occhi e difficoltà di mobilità articolare. Il 10% dei beagle sono portatori della MLLS. Non sviluppano la malattia, ma trasmettono la mutazione alla loro decidenza. Il rischio per te è di introdurre un riproduttore portatore nell'allevamento che porterà a diffondere il numero di cani portatori. Dopo un momento aumenterà il rischio di ottenere cagnolini affetti di MLLS. Antagene propone un test del DNA per individuare i futuri riproduttori e conoscere il loro stato genetico. Sano, portatore o affetto. Il risultato del test del DNA è valido per tutta la vita dell'animale con un'affidibilità superiore al 99%. Grazie al test del DNA MLLS puoi adattare le monte per ottenere beagle esenti di problemi di crescita e quindi proteggere il tuo allevamento della malattia. Il test del DNA MLLS è disponibile per 68€ dalla Antagene e dalla Vettogene. Per più informazioni collegarsi su antagene.com.it o contattarci per email o telefono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.